Avrei potuto semplificarmi la vita dando immediatamente forfè, passare il fucile a mio figlio ed io prendere la sua telecamera. Ma gli eventi favorevoli quel giorno fluivano tutti in un'unica direzione, come se si fossero dati l'appuntamento per farmi scoppiare di gusto convergendo a fiotti nella segreta sacca privata in cui raccolgo le emozioni più intense che mi capita di vivere. C'era ancora un'ora di cammino da fare per raggiungere il luogo dell'appuntamento con Olivieri e se Bullo avesse avuto ancora birra da spendere avrebbe potuto rastrellare incontri su incontri trascinandomi nel suo delirio di onnipotenza cinegetica. E io conoscevo bene quel cacciatore nato che c'è in me, un essere che al servizio di un cane inguidata su uccelli selvatici diventa travolgente. E poiché so bene quanto sia sottile e fragile il confine che separe il godimento eccessivo dalla suefazione o dal disgusto, quel campanellino di allarme che in ciascuno di noi suona quando vi è odor di emergenza si trasformò in un assordante rintocco di campane. Decisi perciò di continuare a cacciare con non curanza per lasciare defluire e disperdere per gradi l'onda di eccitazione che mi aveva aggredito in mattinata e che mi aveva tenuto sulla frusta fino a quel momento. E per fortuna, a dar maggior corpo al mio proposito, intervenne Bullo, il quale, ormai stremato dalle tante azioni, cominciò ad esercitare quella che io chiamo la deambulazione di cortesia o di puro trasferimento, ovvero l'andatura che un cane, quando è cotto, compie per accontentare il padrone durante le marce di avvicinamento alla meta. E' stata morta là. E' andata a prendere quella lì. No, adesso andiamo. E' andata a prendere quella lì. e' andata a prendere lì. Eccolo. Ciò, a lei, a lei Ciò, a lei, a lei Ciò, a lei Ciò, a lei a lei fa un'ardi 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 a lei fa un'ardi